Affamati, benvenuti in un nuovo video! Oggi faremo un video diverso dal solito perché andremo a vedere una ricetta molto particolare, e già questo vi deve far spaventare, perché andremo a vedere una ricetta italiana fatta da americani, anzi peggio ancora, fatta da un italo americano, che la cosa diventa abbastanza grave, quindi andiamo a vedere direttamente di cosa si tratta. ORIGINAL CARBONARA E NON BOLE SPAGHETTI PERFECTO! BOLING E NON BOLE C'è chi fa li tieni così con la mano? SPAGHETTI PERFECTO! PORGINAL CARBONARA Sì, si attacca tutto quando andate sotto la padella! So, let's get rid of this pancetta, let me show you what it looks like! pancetta! Sì sì! Comunque, io non capisco, no, ma se dicono vera ricetta italiana originale della carbonara, Ma perché poi ci devono mettere la pancetta? Perché la devono fare diversa, io non capisco. Dite carbonara all'americana. Perché dovete dire italiana? Tra l'altro questo si chiama Gennaro Pontaldo. Dico, sarà pure italo-americano. Ma perché? Vabbè, continuiamo. Ah, avete capito? Ha detto. Ha detto, non riesco a trovare la pancetta. Ok, potete usare il bacon. Forse non riesce a trovare il guanciale. Vabbè. Ok, sui tuorli sono anche d'accordo. Parmesan all'interno. No, oh God, please no! Parmesan. Parmesan. Secondo me i romani si stanno proprio o hanno già chiuso il video o solo gli almenuti l'infarto. Sicuro, al 100%. Let's beat it. All the egg. Now, this is where it comes. Oddio, che cos'è? I'm gonna put inside a mix of butter and olive oil. Un mix di burro e olio d'oliva. Ma dove le trovano queste cose? Ma solo gli americani le possono inventare. Cioè, tu hai mischiato? In pratica è un prodotto già confezionato, tra l'altro. Dico, vabbè. Andiamo avanti. Un cucchiaio intero ci ha messo. Let it melt nicely. You need two cloves of garlic. L'aglio no. Per favore. Tutto. Metteteci tutto. Metteteci la pancetta. Metteteci pure il prosciutto. Ma l'aglio no. L'aglio nella parmonara non ci va. Non ci va. Ma perché lo dovete mettere? Mannaggia a voi. La croce. Just a little bit. Just a... Give it a little bit of a... Punchness. Un punchness. Mi invadcia un punchness. Fantastico. Sono troppo forte se americani. Straight inside. Cioè, quello è tutto grasso. La tenda. Simple is incredible. Simple to make it. semplicissimo, dovevi solo mettere il guanciale della padella, ci hai messo aglio, ci hai messo il burro, l'olio ok, ci ho messo l'aglio volendo in mano, ancora non si è bruciata forse l'acqua di cottura è la cosa giusta di questa ricetta ok, e lo doi dal fuoco, bene ti credo che è cremosa, sono tutti grassi, ma grassi oltre a quelli del guanciale, ma perché? si, ora un po' di più di pasta di acqua, un po' di più di pasta di acqua, continui a stirarlo guardate, vieni a guardare questo creme, vieni a guardare questo creme, come è inoltre inoltre, non mi piace inoltre, ora mi chiamo il dottore, non lo so che ti dice e ora, il meglio è arrivare Oddio, che sta a fare? Oddio, che sta a fare? No, non lo fare, non lo fare, non lo fare, non lo fare, no. Povero. Ma dico io, ma ce ne hai messo già un cucchiaio di quello, ma perché ce ne devi mettere altro? Ma quello è tutto, oddio, quel colesterolo è un cucchiaio proprio. Due, due, oddio, 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 no double cream, eh, mi raccomando, ma la carbonara non ci va la panna, eh, se lo dice lui mi fido, eh. Why I'm cooking so good, why, oh my goodness, this. Si fa i complimenti pure da solo, lo vedi, dicevo. Cioè, ha detto perché cucino così bene, cioè, no, 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 non ce la faccio. Non ce la faccio. Ragazzi, se questo tipo di video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, commentate, ditemi la vostra su questo capolavoro della cucina italo-americana, e mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Dai, eh! Ciao! 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 Grazie a tutti.